Luca Pedrazzani è un nuovo giocatore dell'amatori Pescara. Il centro classe 2000 che arriva da Crema ha firmato un contratto biennale. Le statistiche di Pedrazzani in questa stagione. 23 minuti di utilizzo a partita con 9,5 punti, il 58% da 2 e 4,5 rimbalzi di media per un massimo di 21 punti realizzati in 30 minuti nel match contro San Vendemmiano, il 70% da 2. Lo scorso anno Pedrazzani ha giocato a Barcellona Pozzo di Gotto e ha vinto la regular season con 16 minuti di utilizzo medio a partita e 6,41 punti. Essendo un under, coach Raiola non sarà costretto alle rotazioni dei senior. Roster a 9 con la possibile uscita di Deustacchio. La squadra, intanto in attesa della Final 8 di Coppa che inizierà a venerdì prossimo a Porto Sant'Elpidio contro Megna, giocherà in campionato domenica con palla 2 alle ore 18 ad Ancona. Non vuole fermarsi più Chieti che giocherà a Senigallia, sempre alle 18 e la palla 2 con diretta televisiva su Rete8 Sport. Nella gestione Piero Cohen, 11 vittorie su 12 partite. Unica sconfitta quella in casa con San Severo. Roster al gran completo per centrare l'ennesimo successo. Le altre abruzzesi. Giulia Nova impegnata in trasferta sul difficile parquet di Bisceglie. Mentre Teramo sarà di scena a Corato che domenica scorsa ceduto dopo un tempo supplementare proprio a Pescara. Osserverà il turno di riposo Capli.